È fondamentale Massimo, guarda io ti vorrei ringraziare tantissimo per essere venuto in Ucraina a fare questo programma, perché tu lì ad Odessa vali più di 10 sistemi antiaereo, perché guarda sei una no fly zone fatta persona. Io credo che se molti diplomatici europei, americani e di tanti altri paesi fossero rimasti, molto probabilmente non avrebbero bombardato Kiev, forse non avrebbero bombardato in questo modo disumano come stanno bombardando Mariupol. Io credo in questo. Saluto anche Caterina Zarem.